5 maggioranza 168 favorevoli 17 contrari 318 la camera respinge siamo a pagina 35 2.20 Molteni prego onorevole Bonanno parlerò con le mani dietro la schiena così non farò gesti signor presidente in merito a questo punto io vorrei fare una cosa come deputato perché ognuno qua dentro si assume le sue responsabilità io facendo giusto o sbagliato mi assumo le mie ognuno si assume le sue quando parla quando vota e nel provvedimento precedente quando abbiamo chiesto che il reato di Stolkin passasse da 5 a 6 anni ho guardato poi nel tabellone il voto definitivo e ho visto che la stragrande maggioranza dell'aula ha votato contro cioè ha votato contro a un reato così ripugnante dove tante volte le donne non solo di quest'aula ma del paese e poi ovviamente anche gli uomini ma siccome molto spesso vengono colpite le donne più che gli uomini il vedere che invece in quest'aula le donne di tanti colori politici hanno votato contro a questa nostra proposta di aumentare la pena per gli stalker mi ha fatto riflettere molto e cioè mi ha fatto riflettere su una cosa che molto spesso capita in quest'aula dove l'ipocrisia diventa imperante dove alla fine qua dentro si dice una cosa, nelle piazze se ne dice un'altra, nelle interviste televisive se ne dice un'altra e magari pensando a una rubrica che per parecchio tempo c'è stata sullo stalking soprattutto da parte della Unzinger della buongiorno su un noto settimanale chi dove si parlava appunto di questo reato e di come si poteva cercare di difendere di dare voce per una legge che poi è stata fatta il vedere che in quest'aula non si voglia votare l'aumento di pena per chi molto spesso purtroppo non solo fa minacce e crea dei problemi ma addirittura ammazza le persone non più tardi di dieci giorni fa è morta una donna dopo che aveva fatto una decina di denunce rispetto a chi la molestava e chi continuava a dire che le avrebbe fatto pagare il conto e vedere adesso in quest'aula votare in questa maniera